E sempre per parlare di Porto e della nuova ordinanza con Massimo Cellino, uno degli operatori qui del Porto di Ischia, voleva darci il suo punto di vista dopo questi primi quattro giorni in cui è stata applicata l'ordinanza. Fino al momento tutto bene, diciamo che abbiamo fatto piazza pulita sul Porto, è anche bello vedere il Porto così, solo che ci sono alcune cose da riguardare come dei posti NCC che alla ditta dove lavoro io causano un danno di immagine che non vengono visti, alcune macchine che scendono non sanno più dove comprare un souvenir, prima arrivavano da me, chiedevano di una caraffa, di una cosa caratteristica, li dislocavo al souvenir oppure a comprare dei limoni, adesso è venuta meno questa assistenza al cliente sul Porto. Queste nuove biglietterie, queste nuove biglietterie benvengano, solo che all'interno i miei datori di lavoro del bar Olimpica, il chiale Olimpica nel Palazzo d'Ambra hanno un bar che lavorano con i turisti, con il camionista che si prende un caffè, prende un panino da portare a bordo. In questo momento non c'è più tutto questo, vediamo che quando passano le macchine vanno direttamente a bordo e noi seduti a guardare l'imbarco, ma nel servizio portuale non diamo niente, né farli aspettare, come puoi vedere adesso l'audio, né rifocillare. Diciamo che se da un lato si è risolto il problema del traffico, può darsi che si debbano rivedere alcune cose? Si deve rivedere sicuramente, però il signor Sindaco e la Capitaneria di Porto, gli antienti preposti, devono chiedere anche un'opinione alle persone del Porto, come è che funziona, perché loro, dal loro punto di vista, vedono Ischia come una città, ma sappiamo bene che Ischia è un'isola e non la possiamo trasformare in città, a meno che non diamo ulteriori servizi che al momento non diamo al turista.